Faglielo vedere, Mayla, come si mastica. Davide non infilare la forchetta in un occhio mai. Sì, no, 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 no. Brava! Adesso vediamo se per caso Davide... Fuori la forchetta. Questa è la forchetta. Questa non la puoi mangiare, però potrebbe mangiare la mozzarella. Ma questa è la carne? Sì. No, quelli sono di cello. No, no, quelli di lievitare. Sono quelli della mazzina. Sì, ma adesso... ...cocchiglia. E lui vuole... ...ma, ma... ...mangiano noti. Ecco, ha fatto un maggiato. Ha, 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 ha. Ormai è andata così ora. Ma è un po' più grande. È un po' più grande. Fa' un po' più grande. Fra, ma ora ti fai vedere un pochino l'amore. Ma Ella, tu sei bravissima. Buon appetito allora, sono diventati quattro Davide, dadà, dai un bacino a Maila, dai, dadà, un bacino a Maila Ma è tutto preso da noi ma intanto mangia grazie di grazie a noi che carini che sono Ale se l'hai ripresa il gioco è quello vorresti cosa? questo? non è tutto tuo qua non è niente tuo ecco che torna attento Dada lei ti dà una carta vaccino che ha dato brava preferivi la carta? quella è Mattia no è sua guarda guarda Dada brava questo numero non si fa non si sa non mi dire brum brum la mattina wow brum brum un'altra incredibile che buono che buono un cagnolino wow wow guarda Dada guarda Dada dai 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 la carta dai dopo te ne da un'altra adesso torna te ne da un'altra adesso torna te ne da un'altra non ti preoccupare fa così guarda Dada questo era un video una casa non ti preoccupare cosa è un Chan che vuole voleci dare un'altra e buona Grazie.